oggi vi presentiamo un'attività commerciale di laboratorio e vendita di pizzeria a taglio di cui proponiamo la vendita l'attività è svolta all'interno di un negozio sviluppandosi su due livelli ed impreziosito da tre vetrine su strada tutte affaccianti su via appia nuova in una posizione molto commerciale di alto passaggio sia pedonale che carrabile al piano terra troviamo due grandi ambienti collegati tra loro nell'ambiente principale è presente il grande bancone per l'esposizione e vendita della pizza a taglio mentre nell'attivo grande ambiente sempre al piano terra sono presenti numerosi tavolini con sgabelli per coloro che volessero consumare in loco i prodotti venduti dall'attività commerciale per un totale di quasi 50 posti a sedere attraverso una scala interna in muratura si raggiunge il piano semi interrato anch'esso regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale nel quale sono presenti un grande disimpegno una zona laboratorio in cui troviamo anche il forno elettrico la cottura della pizza un ambiente adibito a uso ufficio un ambiente utilizzato come spogliatorio per il personale e un locale magazzino per la conservazione dei prodotti nell'immobile è presente un impianto per l'immissione dell'aria e l'estrazione dei fumi il negozio è condotto in locazione con contratto di locazione iniziato a settembre del 2019 e la cui prima scadenza è prevista per il settembre 2025 con possibilità di rinnovo di ulteriori sei anni nel 2021 anno in cui l'attuale proprietà ha rilevato l'attività commerciale precedentemente svolta sono stati effettuati diversi lavori di ammodernamento come il rifacimento completo dei pavimenti la dinteggiatura generale di pareti e soffitti il rifacimento completo dell'impianto elettrico nella zona cucina e la revisione di quello precedentemente esistente così da avere un impianto elettrico a norma e l'installazione dell'impianto di condizionamento nuovo infatti l'immobile si trova in ottime condizioni di conservazione e chi dovesse rilevare l'attività commerciale potrebbe avviare la propria azienda fin dal giorno immediatamente successivo a quello del rogito per l'acquisto della proprietà quasi tutti gli elettrodomestici presenti all'interno dell'immobile e utili per lo svolgimento dell'attività commerciale sono stati acquistati dall'attuale proprietà nel 2021 l'immobile fa parte di un condominio e le spese condominali ordinarie ammontano a circa 90 euro al mese potete vedere foto planimetrie video di questa interessante opportunità di investimento sul nostro sito www.lrimmobiliare.it lr immobiliare la tua casa in buone mani www.lrimmobiliare.it lr immobiliare la tua casa in buone mani